Tragedia a Senigallia, più precisamente nella frazione periferica di Roncitelli, dove nel tardo pomeriggio di lunedì si è consumato un omicidio che ha portato alla morte di un giovane di 27 anni, Alfredo Pasquini, ucciso con un colpo di pistola dal padre Loris. Nella notte, al termine di un lungo interrogatorio, l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto, in provincia di Ancona. Il tutto sarebbe iniziato da una forte lite intercorsa tra i due uomini nella villetta bifamiliare in cui entrambi vivevano, Alfredo al piano superiore e Loris, insieme all'attuale compagna, in quello inferiore. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il proiettile sparato dal padre avrebbe raggiunto la gola del ragazzo. Letali le conseguenze, ma il 27enne, con le ultime forze raccolte, sarebbe riuscito ad allertare i soccorsi. Una volta giunti sul posto, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Per tentare di salvare la vita del giovane, era stata allertata anche l'eliambulanza. All'interno della villetta, durante l'accaduto, pare si trovasse anche la compagna del padre, trovata poi in stato di shock dai carabinieri. Ancora poco chiara e in fase di ricostruzione da parte degli investigatori, la dinamica esatta dei fatti che ha spinto l'ex ferroviere in pensione ad azionare l'arma da fuoco contro il figlio. Tra i due c'erano già stati molteplici episodi di liti violente, che in diverse occasioni avevano costretto ad intervenire alle forze dell'ordine. Un testimone avrebbe raccontato che, proprio poco prima del verificarsi della tragedia, avrebbe visto il ventisettenne tirare dei calci all'automobile del padre, mentre quest'ultimo si trovava al suo interno, intento a rientrare nell'abitazione. Mentre altri residenti nelle case poco lontane dalla villetta dei Pasquini avrebbero riferito di aver sentito urla e trambusti negli orari riconducibili alla tragedia. Durante l'interrogatorio, pare che Pasquini avrebbe riferito agli inquirenti di essere stato vittima delle violenze del figlio da diversi anni e che avrebbe impugnato la pistola e poi sparato per difendersi dalle percosse di quest'ultimo. Sarebbe stato accertato intanto che il 73enne detenesse illegalmente l'arma del delitto e che il suo portodarmi sarebbe stato ritirato diverso tempo fa. L'accusa nei confronti del ferroviario in pensione è di omicidio volontario, aggravato dal rapporto di parentela con la vittima. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo del 27enne.